Primo giorno sulla coltronata di sindaco per Giuseppe Germani, un'emozione sicuramente importante per un uomo che in questa amministrazione c'è stato molti anni e ora è diventato il primo cittadino della sua città, un'emozione immensa come prima di tutto l'ha vissuta questo ingresso nella sede del sindaco, nell'ufficio del sindaco. Ma l'emozione c'è sicuramente tanta perché ricoprire questo ruolo mi dà una grande emozione, mi fa molto onore e quindi c'è tantissima emozione, non è utile negarla. Però siamo entrati immediatamente all'interno di una macchina che non si è mai fermata, bisogna affrontare i vari aspetti, i vari problemi, c'è bisogno di rimettere in sesto la macchina comunale, di riprogettare per far sì che questa macchina sia utile per mettere in atto il programma che io ho presentato agli elettori e quindi mi sono messo subito al lavoro per cercare di risolvere e di andare avanti in questo senso. Sindaco, questi sono i primi giorni in cui ancora i rumors elettorali fanno eco e tutti si chiedono quali saranno gli assessori di questa giunta, ci sono grandi attese, quali saranno gli incarichi di riferimento consigliare che verranno poi eletti e assegnati nelle prossime settimane. Vuole dirci qualcosa su questa? Molto semplicemente che gli assessori come è previsto dallo statuto dei comuni saranno espressione del sindaco e quindi io in questi giorni mi sto adoperando per definire la lista degli assessori che insieme a me vorranno condividere questo importante compito complicato, complesso e quindi dovranno essere intanto persone che hanno le caratteristiche per poter assolvere quei compiti, secondo che abbiano la disponibilità di tempo necessaria perché sarà un lavoro molto complesso, terzo persone che hanno tutta la mia fiducia perché il rapporto fra sindaco e assessore è innanzitutto un rapporto di grande fiducia. I primi impegni, i primi interventi, le prime azioni che Giuseppe Germani farà da sindaco della città di Orbiato? Io ho già messo in programma per la prossima settimana intanto di fare una visita all'ospedale di Orbiato, della città di Orbiato, secondo di fare una visita al Piccolomini Febei perché è un altro luogo per me simbolo, terzo di visitare i centri della memoria di questa città e in più siccome che siamo anche oggi c'è il bollettino della protezione civile per l'emergenza senza calore vorrei se riesco fare una visita presso i centri anziani che sono altri punti importanti della città. Non ho perso di vista uno dei punti salienti del mio programma che è quello di intanto cercare di mitigare il più possibile il dramma della nostra città che è quello dell'occupazione e quindi intanto mettere e iniziare a capire come si può dare una mano per risolvere i problemi aperti di emergenza. Per domani presso la regione dell'Umbria all'assessorato allo sviluppo economico dell'assessore Riommi abbiamo fissato un appuntamento per le vertenze della Dione e la vertenza di elettrosisse e domani sarò a Perugia proprio per affrontare questi problemi. Grazie al sindaco Giuseppe Germani e in bocca al lupo per questa avventura così importante e importante per la città di Orvieto. Grazie a voi. Grazie a voi.